Come c'è? I topi non hanno nipoti. Prova a scrivere i topi non hanno nipoti. Quindi, leggendo la contraria, si dice da sempre i topi non hanno nipoti. Si chiamano palindromi, vabbè. Oggi è un giorno palindromo, quindi mandiamo un saluto a... qua abbiamo già il primo messaggio. Un felice buongiorno alla redazione di Vada Liscio, al condottore Fulviana e ad una incantevole signorina di Sezze, che si chiama Silvia D'Aivetto. È mia sorella. Ah sì, è qua? Sì, perché mia sorella praticamente questa notte mi ha pubblicato una foto. Su Facebook? Mia sorella si chiama Silvia Camarone, ovviamente. E dov'è? E mi ha pubblicato, ma quando vieni, quando torni a Sezze dalla tua sorellina che ha tanto bisogno di te? E quindi Silvia di Sezze è probabilmente mia sorella, se non erro. Ciao, Ivetto, un bacione a te e Adriana.